Abbiamo fatto tre gare, abbiamo vinto la prima e la terza, sulla seconda abbiamo fatto secondi per cui direi un inizio molto buono, la 207 come al solito marcia come un car armato, non si ferma mai, praticamente questo è il quarto anno che io non riesco a ritirarmi con questa macchina per cui direi eccezionale, abbiamo fatto questo pacchetto Peugeot e Pirelli funziona sempre meglio, siamo messi bene però il campionato è ancora lungo, basta andare una volta, ritirarsi una volta che gli altri, scandola, gamba eccetera ci possono passare avanti per cui sarà un testa a testa fino alla fine, noi contiamo ora anche alla prossima gara del Targalforo di essere lo stesso competitivi anche sull'asfalto. La 207 quest'anno è ancora più competitiva perché ci sono state delle modifiche che la Racing Lion ha portato alla macchina che sono state eccezionali, l'allargamento della carreggiata che ci consente di essere più stabili nel veloce, dei paraurti diversi che ci consentono il maggior raffreddamento ai freni e sulla terra gli ammortizzatori. Peugeot 207 Super 2000 ci ha permesso di vincere gli ultimi 4 campionati italiani, si è sempre rilevata affidabile e performante e Peugeot Sport per essere ancora competitivi ha praticamente proposto una nuova evoluzione della vettura per il 2012. L'evoluzione 2012 permette di allargare la vettura di 20 mm sfruttando il massimo del regolamento quindi si passerà di una larghezza di 1800 mm a 1820. Questo kit versione 2012 porterà dei vantaggi soprattutto alla stabilità della vettura nelle curve lunghe dove c'è bisogno di tanto appoggio, la vettura un po' più larga rende la vettura più stabile sia in frenata che in curva. L'altro vantaggio è sulla modifica di carrozzeria col paraurti posteriore e i parafanghi anteriori con il nuovo disegno permette di far defluire meglio l'aria dai freni quindi migliora il raffreddamento di questi componenti. Quest'anno abbiamo deciso che i fans Facebook fossero i protagonisti nella scelta della livrea della macchina ufficiale di Peugeot Italia per cui abbiamo indetto un contest nel quale 50.000 persone hanno partecipato e hanno votato per scegliere quella che sarebbe stata la livrea della prima gara ufficiale di Peugeot Italia. Grazie per la visione! Grazie a tutti!